Su questa chiesa circolare della nostra terra, raffigurata in questo quadro, delle sue origini di preciso non si sa nulla. Tutti affermano che sia stata edificata su un precedente tempio romano dedicato a un dio della natura. Ma questa teoria non mi convince. I romani, eliminati i loro nemici a sud di Roma e ormai divenuti i padroni assoluti dei commerci del Mediterraneo, partirono alla conquista del nord Europa strappandolo ai Celti. E cento anni prima di Cristo, o dopo, costruirono una trasversale che collegava le strade consolari fra quella che da Roma andava ad Augusta in Germania, con quella che raggiungeva la città tedesca partendo da Milano, ora in video. E a chi interessa approfondire questo argomento, gli consiglio di vedersi i seguenti video. Il ponte della regina e i due della storia delle Orobbie e la via Mercatorum. Come via di comunicazione era talmente importante che sul Brembo vi edificarono un viadotto con un relativo ponte per poterlo scavalcare ed era lungo circa 200 metri e alto, dicono 24, per una larghezza che di preciso non si sa. Secondo i ruderi esistenti era fatto come vediamo, ma nel 1493 una piena eccezionale del fiume lo rese inservibile. Ed ora tutto ciò che rimane sono solo queste poche immagini che abbiamo in video. Ai suoi tempi quest'opera per la maestria dei costruttori lasciava estasiati chi la guardava. E benché siano passati già cinque secoli dalla sua distruzione, la gente il suo ricordo se lo tramanda da una generazione all'altra. Però oggi erroneamente lo chiamano il ponte della regina, dando la paternità dell'opera alla regina dei Longobardi Teodolinda, la quale al massimo ci avrà fatto della manutenzione, ma non la sua edificazione originaria. Questa strada ai romani gli permetteva di poter sfruttare le ricchissime miniere di ferro e di boschi delle prealpi orobiche, in video, e le foreste dell'isola bergamasca, prima per il loro legname, e poi trasformarlo in terreni da coltivare. Questo lembo di terra è così chiamato perché si stende fra due fiumi, il Brembo e l'Adda, fino a Brembate. Le vie edificarono, a sua difesa, dove ora si trova la chiesa di Sant'Omè, una costruzione militare come presidio a tutta questa vasta zona che vediamo. Ma poi, quando ormai i confini del loro impero erano stati portati con le nuove conquiste, oltre le Alpi, e non aveva più scopo di esistere una fortificazione militare, fu trasformata in un tempio, dicono, ma di preciso non si sa nulla, dedicandolo a una delle tante divinità della natura dell'Olimpo romano, oppure una semplice dimora. Quando l'Alta Italia fu conquistata dai Longobardi dal cinquecento d.C. in poi, a questa parte del loro regno, che vediamo e comprende tutto il bacino idrografico del Brembo e l'isola bergamasca, gli fu dato il nome di Lemine e divenne pure una corte regia. E forse vi si stabilirono per un pochino di tempo i diversi re Longobardi, così si dice, e magari vi andarono ad abitarvi gli stessi sovrani. Prima del dodicesimo secolo, in pieno sacro romano impero, per quanto concerne Sant'Omè, di preciso non vi era nulla. Ma solo a partire dal 1180 si comincia a trovare degli scritti che parlano della chiesa, e che il vescovo di Bergamo, di tutto quello che esisteva prima, lo fece demolire, e sulle fondazioni fu costruita la rotonda di Sant'Omè. Il progettista, che era anche un bravissimo astronomo, per la sua realizzazione si ispirò alla cappella palatina di Acquisgrana. E fece in modo perché i giorni dei due equinozi, che sono il 20 e il 21 di marzo per quello primaverile, il 22 e il 23 di settembre per quello autunnale, il sole, entrando da un'apertura, andasse a illuminare il tabernacolo sull'altare. Ma tutto questo lo si vedrà in un prossimo video. E nel secolo successivo venne aggiunto l'abside e il presbiterio, e in parte fu edificato un monastero femminile per delle nobili ragazze della Bergamasca. E per tutto il tredicesimo secolo pensò al mantenimento e decoro di tutto il complesso religioso, che divenne pure un rinomato centro spirituale. Ma nel quattordicesimo secolo le cose cambiarono drasticamente, a causa delle guerre fratricide, fraguelfi e ghibelline che insanguinarono tutto il lemine. Poi le varie carestie che vi seguirono e decimarono la popolazione. Tra le monache e i preti del complesso religioso ne successero di tutti i colori, che lascio a voi immaginare. E visto il malaffare che si era instaurato, i fedeli lo abbandonarono. Finché nel luglio del 1407 venne chiuso e i beni furono incamerati dal vescovo. Mentre il centro spirituale fu abbandonato al suo destino, le terre furono date in affitto. La chiesa e il convento, per salvarli dal degrado, vennero ceduti a degli eremiti, ma con scarsi risultati. Allora, prima che crollassero, il 29 aprile del 1536 fu venduto alla parrocchia di San Salvatore di Almenno. E qua cominciarono le veghe. Santomè, benché appartenesse alla parrocchia di Almenno San Bartolomeo di Tremozia, lo lasciava gestire a quella di Almenno San Salvatore. Ma adesso che se l'erano comprato, lo volevano per sé interamente. E fra le due parrocchie vi erano sempre delle discordie. Finché arriviamo al 1601, quando i due Almenno si separarono sia come paese che parrocchie. E allora scoppiò il finimondo. Veghe di ogni sorta e vendette. Finché ad acquetare gli animi ci pensò il Papa Pio X, che nel 1907 riportò le cose come erano precedentemente. Santomè ritornò ad essere di Almenno San Bartolomeo. Ma a gestirlo canonicamente ci avrebbe pensato ancora la parrocchia di Almenno San Salvatore. Per completare questo lavoro seguiranno altri due video. Uno dedicato alla sua architettura e l'altro che tratterà i sostizi, gli equinozi e la meridiana interna. Grazie a tutti.